L'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli in prima linea per favorire i progetti di governanza al femminile. Presso la sede dell'ordine si è tenuto il convegno La riforma dell'economia delle aziende, promosso dal Comitato Pari Opportunità con la collaborazione della FIDOC, Federazione Italiana Donne e Dottori Commercialisti. Noi abbiamo una partecipazione del 22% circa delle iscritte al nostro ordine. E sicuramente è una professione difficile per le donne perché oltre alla professione devono conciliare anche esigenze di famiglia, di madri, eccetera, cose che spesso gli uomini non hanno. Per questo motivo l'ordine di Napoli è sempre stato vicino, il Consiglio dell'Ordine di Napoli è stato vicino al problema donna, al problema di compatibilità, cioè di far conciliare le varie esigenze e credo che l'iniziativa di oggi è sicuramente una conferma di quanto il Consiglio sia sensibile per questo tipo di attività. Al centro del dibattito l'introduzione di un quorum di donne nei consigli di amministrazione e negli organi di controllo delle società quotate e pubbliche. Oggi parliamo di una lezione magistrale, cerchiamo di ascoltare e verificare i progressi che si sono fatti in termini di quota, in termini di rappresentanza delle donne. Noi da Napoli personalmente siamo molto orgogliose di quello che siamo riusciti a fare in questi anni di attività del Comitato. Stiamo lanciando un progetto proprio in virtù di quello che sta succedendo a livello nazionale, ossia questa legge sulle quote di genere che si sta approvando in questi giorni. Stiamo realizzando un progetto molto importante per le donne commercialiste napoletane e campane perché questo progetto che si chiama Donne in quota vuole sensibilizzare tutte le imprese dotate di consigli di amministrazione e collegio sindacale ad intervenire, ad interagire con l'Ordine di Napoli che mette a disposizione tutti i curricula di queste donne all'interno rappresentanti della nostra professione. Io sono stata eletta nel Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti nel 1995 e sono stata la prima donna consigliere all'Ordine del mio ordine, il terzo ordine in Italia per numero di iscritti e di importanza. Io credo che anche noi donne dobbiamo avere il coraggio di imporre questo cambiamento, un cambiamento verso la parità. La parità è una, dopo l'emancipazione femminile che è stata la prima fase, oggi c'è bisogno della parità. La parità è un rapporto qualitativo, sostanziale. La parità è qualcosa di crescita, di vera crescita. Siamo attualmente il 30% dell'intera categoria. Sarebbe auspicabile che più donne ci fossero all'interno dei consigli degli ordini locali e soprattutto all'interno del Consiglio nazionale. Questa è la nostra speranza, ci stiamo impegnando affinché i consigli degli ordini locali, il Consiglio nazionale si possano attivare l'anno prossimo in sede di elezioni per fare in modo di rappresentare appieno la categoria. Siamo il 30%, dobbiamo provare ad esserlo anche all'interno, laddove si comanda e ci sono le stanze dei bottoni. Il disegno di legge che propone un equilibrio tra i generi è oggi all'esame del Parlamento e vedrà la luce nelle prossime settimane. Ma cosa rappresenta per le donne, per il sistema economico e per la società? La prima cosa è creare delle strutture a supporto della conciliazione. Poi è importante, diciamo, c'è un problema di cultura e quindi che spesso porta la donna a autoescludersi e quindi noi come sindacato di donne FIDOC promuoviamo l'inserimento delle donne nella professione con una serie di progetti e siamo a favore della governance femminile perché è importante che attraverso una legge le donne entrano nella stanza dei bottoni insieme con gli uomini. All'interno quindi degli ordini noi abbiamo una crescita esponenziale negli ultimi vent'anni delle donne che hanno deciso di fare la libera professione e di avanzare un progetto professionale come parte essenziale della vita al pari degli altri aspetti, quello familiare e quello comunque di cura. E queste donne quindi hanno invaso il mercato e escono da percorsi professionali brillantissimi con performance formative altissime, curve di performance che decrescono nel momento in cui invece ci dovrebbe essere la maturazione professionale, cioè nel momento in cui lavorano e inizia anche il dovere familiare e quindi il problema, la nostra questione della conciliazione vita-lavoro. E queste donne vanno tutelate perché spesso si devono ritirare nicchie di mercato di bassa qualità e bassa redditività o addirittura al sud, stante i grandi problemi occupazionali, si ritirano dal mercato. E quindi bisogna avanzare dei provvedimenti in ottica di pari opportunità, bisogna investire in cultura, bisogna investire in cultura che porti le donne ad avere autostima di se stesse e a proporsi e a richiedere provvedimenti, creazione di infrastrutture e quant'altro possa essere necessario. Della partecipazione delle donne nello scenario economico e sociale ha parlato nel corso della lezione magistrale la giornalista Monica D'Ascenso, che di recente ha affrontato il tema della governance in rosa nel libro Fatti più in là, edito dal gruppo 24 Ore. Da Napoli è giusto che parta questa sfida, visto che gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti sono 5.000 e il 28% sono donne. Questo è già un buon esempio di come sta cambiando il panorama a livello nazionale. Le laureate ad oggi sono il 60% del totale e questo vuol dire che nei prossimi anni ci sarà un cambiamento delle professioni molto forte, dall'avvocatura ai dottori commercialisti e creerà anche dei cambiamenti all'interno delle aziende. In Italia c'è in questo momento all'esame della Commissione Finanze della Camera una proposta di legge bipartisan, Golfo Mosca, sull'introduzione di quote di genere nei consigli di amministrazione e nei collegi sindacali e questo vorrà dire un vero cambiamento anche all'interno delle aziende.